Come esseri umani desideriamo sperimentare l'unità e allo stesso tempo essere originali e diversi. A volte questi desideri sembrano essere contraddittori. È bello che nel nostro rapporto con Dio possiamo rimanere noi stessi, essere originali ed unici. Questo ci invita a creare o ad approfondire l'unità attraverso la nostra originalità. La vera unità con Dio viene sempre dal cuore. L'unità è un dono dello Spirito Santo. Tuttavia, tendere all'unità è un atteggiamento missionario fondamentale nel vivere la missione della Chiesa. La vera unità è un atteggiamento missionario fondamentale nel vivere la Chiesa.